La Cavese riscatta la brutta figura dell'andata e riprende la corsa verso i play-off. Gli uomini di Andrea Camplone cancellano gli spiacevoli episodi del derby contro il Sorrento e regalano alla propria tifoseria una vittoria che vale tanto, una rete del rientrante Cipriani nel ricordo dell'indimenticabile Catello Mari. Il Gallipoli subito spinge il piede sull'acceleratore. Al terzo Ginestra si fa vedere con un tiro che sorvola di poco la traversa. Gli ospiti, con Russo, prendono in mano il centrocampo. Al quinto Munard ruba palla da Anaclerio e serve Di Gennaro, ma ancora una volta i pugliesi peccano con la mira. La reazione della Cavese giunge solo al sedicesimo. Punizione di Anaclerio, Rossi sbaglia l'uscita, ma Cipriani non coglie l'attimo. L'ultima azione del primo tempo è del Gallipoli. Al quarantacinquesimo Di Gennaro si beve tutta la difesa metterliana, ma l'assist per Ginestra è intercettato dall'onnipresente Cipriani. La ripresa vede il Gallipoli a favore di Vento. All'ottavo, Russo salta Lacrimini e Nesca Di Gennaro, che, pressato, non riesce a concludere. La Cavese sfrutta il contropiede e al dodicesimo Frezza va via in progressione. Serve Tarantino, che viene fermato in angolo. Sul tiro della bandierina il pallone arriva a Cipriani, che fa esplodere Simonetta Lamberti. La reazione del Gallipoli è vehemente e al ventunesimo e al venticinquesimo i Pogliesi sfiorano il pareggio. Al ventinovesimo lavoro per la Moviola, con l'arbitro che annulla la rete di Bernardo in dubbia posizione di fuorigioco. Il finale è una sofferenza, col direttore di gara che regala cinque minuti di recupero.